I bambini degli asili e delle scuole palermitane soffocano, è quanto emerge da uno studio guidato da Greenpeace Italia nel quadro di una campagna contro il diesel che ha coinvolto, oltre che il capoluogo siciliano, anche Milano, Torino e Roma. Secondo i campioni dell'aria raccolti dall'Associazione Ambientalista, a Palermo, 9 istituti su 10 presentano concentrazioni di biossido di azoto, spesso ampiamente al di sopra del valore fissato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Protezione della Salute Umana. Greenpeace, durante lo studio, ha realizzato 40 monitoraggi in 40 giorni diversi presso altrettanti istituti scolastici e di questi 40 campioni, 39 hanno rilevato concentrazioni di NO2 superiori ai 40 microgrammi al metro cubo. Tra gli istituti presi a campione nel capoluogo siciliano troviamo la scuola primaria Trieste di via San Polo, peraltro l'unica promossa, la Turrisi, la Colozza, la Waldorf, la scuola materna dimensioni bimbo, la Matite Caramelle, il circolo didattico di via Domminzoni, il Monte Grappa, la Maneri in Grassia e il comprensivo Rapisardi Garibaldi di via Caltanissetta. La situazione riscontrata all'orario della prima campana nelle scuole di Palermo conferma un quadro che appariva già evidente, ha dichiarato Andrea Boraschi responsabile della campagna energia e clima di Greenpeace Italia. Da nord a sud le città italiane sono assediate dai veleni e dei diesel e i bambini che sono i più colpiti degli effetti patogeni di queste sostanze sono tutte fuorché al riparo. Quanto evidenziato da Greenpeace, ha continuato Boraschi, segnala non solo un grave problema della qualità dell'aria, ma anche un'emergenza sanitaria diffusa che esige soluzioni urgenti. L'associazione ambientalista chiede ora al sindaco di Palermo e a quelli delle altre tre città coinvolte dallo studio di cominciare una campagna di graduale limitazione della circolazione delle auto diesel fino ad arrivare alla completa messa al bando a partire dal 2021.